Una partitella in famiglia che ha permesso a Mr. Sottili di fare le prove generali in vista del match di debutto della stagione in casa della Carrarese per il primo turno di Team Cup. Sul campo di Poppi il punto fermo sembra essere 4-2-3-1 con il quale gli Amaranto affronteranno la Carrarese. Mr. Sottili si è detto soddisfatto nonostante i carichi di lavoro e la pesantezza sulle gambe. Bene la fase di costruzione, siamo stati bravi nel trovare spesso il giocatore tra le linee, siamo stati meno bravi nel ultimo passaggio della finalizzazione però c'è una crescita importante da questo punto di vista. Dobbiamo essere un pochettino più bravi nella difesa preventiva e dobbiamo essere un pochettino più bravi nel compattarci in fase difensiva. Qualche volta siamo ancora troppo lunghi però situazioni diverse. Se il campo dove l'erba era altissima e non si riusciva a farla scorrere come volevamo questo ci frenava un po'. Nella stanchezza fisica importante che hanno denotato i ragazzi c'è stata comunque una buona risposta perché sulla fatica andavano lo stesso. E proprio i carichi di lavoro potrebbero essere l'incognita del match in Casarezzo contro un avversario, la Carrarese, che ha ripreso l'attività solo da pochi giorni. La presunzione sia una delle cose in assoluto che non sopporto e quindi faremo di tutto perché ciò non avvenga. Noi dovremo essere bravi a non subire, dovremo essere bravi a arrivare colpo su colpo e avere anche la forza mentale, la pazienza di eventualmente saper gestire il momento nella consapevolezza che alla lunga potremo anche avere il vantaggio di tanti allenamenti in più sulle gambe.